Vediamo che succede a Valcanda. Capitano America e Chun-Li ce la stanno mettendo tutta. Purtroppo è arrivato il virus Sigma. Avete visto com'è arrabbiato Hulk? Hulk è insieme a Ryu. E vediamo cosa sta facendo Monster Hunter. Una creatura antica. E chi è? Monster Hunter sta parlando del drago anziano. Da Ren Moran. Oh mio Dio. È spaventoso. È vero, il drago anziano. Da Ren Moran. Perché è infetto dal virus Sigma? Io non lo so. Hulk e Ryu devono farcela distruggere questi croni. Hulk e Ryu devono proteggere la città.